I dati venuti fuori nella Commissione Comunale Bilancio, dove è stata ascoltata l'ASM e l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, fanno riflettere e preoccupare. Ogni giorno l'azienda raccoglie circa 100 siringhe al giorno, 900 kg di rifiuti e Piazza Regina Margherita, da quando è stata riconsegnata dalla Fondazione Carispac, è già stata ripulita tantissime volte. Inoltre, ripulire i muri delle scritte con le bombolette spray costa ben 3.000 euro. Dati che fanno riflettere che forse dovrebbero spingere a campagne di sensibilizzazione ai giovani, ma non solo, perché il consigliere comunale Enrico Verini propone di far partecipare anche i commercianti alla polizia. Ci sono delle aree pubbliche, quindi delle aree che appartengono a tutta la collettività, noi compreso, che vengono utilizzate a fini privatistici, perché sono occupate dai tavoli, dai deor e da tutti gli strumenti attraverso i quali le varie attività di ristorazione guadagnano, hanno degli introiti. Questa attività fa sì che quegli spazi vengano sporcati in maniera abnorme e l'abbiamo sentito dall'SM. Per farvi un esempio, Piazza Regina Margherita, da poco rifatta, è stata pulita in maniera speciale per 27 volte, il che significa che 3 persone, 27 volte più i mezzi e più gli strumenti utilizzati, sono stati occupati per circa 3-4 ore nella pulizia di quella piazza. Ora, io mi domando, il costo di questo servizio, perché deve essere addebitato a tutta la collettività e non a chi ci guadagna? E a chi, guadagnandoci, provoca poi gran parte dei rifiuti, dello sporco che poi la collettività necessariamente deve far pulire? Questa è la domanda, ed è una domanda, io penso, normale, non credo che abbia proposto una soluzione comunista. Proposta che però, gli esercenti rimandano al mittente. Daniele Stratta, che ha un locale in via Garibaldi, ha fatto notare che il degrado non c'è dove sono i locali, c'è sempre personale che loro pagano per la sicurezza, oltre a pulire loro stessi le aree attigue. Anche Ortenzio Di Luzio, che è il suo locale proprio in Piazza Regina Margherita, ha spiegato che lui stesso ha acquistato una idropulitrice per tenere pulita la zona dell'esercizio commerciale. La polemica però non si placa e tiene banco ogni giorno. La Movida, insomma, continua a far discutere.